Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo. Drama. Ho guardato le impostazioni ma non c'è il volume. O togliamo o mettiamo. Forse è così? No. Trascinandolo? No. Ok. Partiamo subito. Play. Ok. Impariamo i movimenti. Cioè? Ok. No. What? Ok. Play. Impariamo i movimenti ma non mi dice come. Va bene. Forse vuole il joypad. Vediamo. Proviamo col joypad. No. Non è il joypad. Ok. Ah le freccette. Ok. Ah si gioca proprio con le freccette. Perfetto. Ok. Ho spostato quello. Salto. Ok. Tipo platforming. Ottimus. Va bene. Secondo livello. Prova a non morire. Ci proviamo. E' questo qua? Va. Ok. Easy peasy. Ottimo. Ah ok. Ok. Non sono lunghi abbastanza per fare quello che dobbiamo fare. Quindi facciamo così. Ottimo. Salti. Ah no. E come si fa a saltare? Spazio. Spazio. Ok. Quella è corta. Quindi. Teoria. Scendiamo di qua. E andiamo di qua. Piano. Bravissimo. Ok. Ah. Impariamo. Vediamo un attimo. Vabbè. Qua possiamo salire. Perfetto. Questo ci arrampichiamo. No. Non si che è la... Ci sta. Perché lo premio sempre così. Va bene. Se cadi, perdi. No. Sbaglio sempre. Invece dello space. Premio freccetta in alto. Piano. 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 Oddio. Ma io non l'avevo visto. C'erano le spine da sopra. Ah. Guarda. Guarda. Sotto di noi c'è una trappola. Oh. La. La. Fatto anche questo. Eh. Ah. Hai capito? Ma che figata quando muori. Ok. Il problema adesso è che... Così. Perché io ho sbagliato? Eh. Adesso siamo... Siamo morti praticamente. Ah. Però. Aspetta. Devo praticamente stare... Ah. Ok. Lo devo spingere. Perfetto. Perfetto. Ho capito. Meno male un po' la tecnica. Il problema è che... Sbaglio sempre. Perché con le freccette premo la freccetta in su per saltare. Che così lo fa. Ma quando sei da qualche altra parte non lo fa. Adesso space non salta per esempio. E... Qua ho fatto un casino secondo me. To fa un casino. Vabbè. Ah dai. Salta. No. Salta così. E ogni tanto salta con la freccia e tanto con lo space. Aiuto. Perché questa scelta? Fai sempre space. Vabbè. Un po' male ma ce l'abbiamo fatta. Sei attento alla testa. Aspetta. Ma se è basso... No. Non si fa. Ok. E adesso... Salgo. Piano. Piano. E qua. Piano. E mo... Come faccio io? Accade. Eh. Io se salto. Ah. Tipo... Così ci posso salire sopra. Sì. Ok. Dai. Salta però. Madonna mia. A volte è veramente un po' duro. Ok. Fatto. Oh. Che noi siamo arrivati? Buh. Ah. Quindi. Sapevo. Sì. Brutta morte. Eh. Quindi adesso... Cioè. Eh. Sapevo io. Eh. Dovamo morire due volte. Devi conoscere i tuoi skill. Eh. Lo so. Sì. Oh. Sai già cosa fare. Perfetto. Mi piace la canzoncina sotto. È veramente rilassante comunque. Devo dire abbastanza rilassante. No. Ok. Uh. Questo non me l'aspettavo. Ottimo. Qualcosa nell'acqua. No. Aspetta. Vai. Fino a qua possiamo andare. Ecco. Basta. Facciamo così. Ah. Fa su e giù. Questa cosa qua. Se ha due tasti è un po'. Però ci sta. Oh. Allora. Così nel frattempo proviamo anche... Wit cosa voleva dire? Non me lo ricordavo. Ha tenuto il telletto? Ah. Ma ci sono salito sopra. Eh. Così. No. Dobbiamo sbloccare qualcosa però. Eh. Sapevo io. Non so cosa ma dobbiamo sbloccare qualcosa. Ma sto morendo come un deficiente. Dicevo così proviamo anche il nuovo setup del nuovo studio. Ci siamo trasferiti finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Dopo tanto tempo. Non ho pubblicato tanti video in questo periodo. Però finalmente ce l'abbiamo fatta. Il setup è uguale. Il concept dello studio è uguale a quello precedente. però ce l'abbiamo fatta. Eh. Dobbiamo arrivare lì. Però non so come fare. Io faccio così? Eh. Eh. Però continuo a morire. Eh. Se me mori. Cioè. Se io adesso. Faccio così. No. No. A meno che. Devo morire per usare il corpo. Eh no. Scivoloni. Ce lo spingo. In là. Poi ne uso un altro. Lo spingo ancora. Eh. Si mi sa i corpi da usare. Tipo così. Guarda. 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 Ok. Ottimo. Adesso. Praticamente un massacro. Eh. Adesso morirò. Perché. Eh. Si. È inutile. Adesso. Cosa posso fare così? Guarda. Se io faccio così. Questo lo metto qua. Lui me lo fa ancora utilizzare come. Appoggio. Infatti. Quindi adesso io. Aia. Ok. Ho capito. Si lo so. È un po' tedioso. Ah. Ok. È un massacro signore. È un massacro. Cioè devo usare il mio stesso corpo. Il problema è che. Allora. Facciamo così. Muore. Non devo morire lì. Lo sai perché muoio qua. Perché. Il salto è un po' brutto. Vai 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 vai. Vai. Ok. E mo? E mo? E mo? E adesso? Sono arrivato alla fine. Però. Non so come aprire. Non ho la più palli di idea di come aprire il portale. Allora. Si. In alta sinistra c'è un hint che si potrebbe premere. Però. Eh. Non lo so. La porta è un po' brutto. E lo so che si muove. Questo è. Ma non si muove. Non ho capito come fare. Alt. Control. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Backspace. Ah. Così torna indietro. Siamo arrivati qua noi. Non lo so. Io non vedo nient'altro. Se faccio questo. Dice che la porta. Si muove. Usa. Per uscire fuori. Ok. Quando prendo l'int fa quello. Questo fa così. A meno che devo spingerla. No. Non la spinge. Gentile dovrebbe essere così no? Eh no. Non lo so. Madonna. Era il mouse signori. Col mouse. Potevo usarlo fin dall'inizio. Vabbè. Ma quello lì esplode. Adesso. Quindi praticamente posso interagire col mouse. No. Sono un. Pirla. Questa porta. Allora. Questo qui lo spingiamo qua. Premiamo questo. Scriccia. Esplode. E mi spacco tutto quanto. Grande. Esplosione. Ok. Sembra difficile. E in effetti. Questo posso andare qua. Ok. Però se io adesso faccio così. No. Così è nego. Ah ok. Devo aspettare l'alta marea. Praticamente. È un delirio sto gioco. Dai 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 dai. Grande. Ce l'ho fatta. Adesso. Buttiamo via questo. No eh. No. Ma veramente. Così non funziona più adesso. Funzionava solo di là. Ripartiamo. Forse. Ho capito. Dobbiamo aspettare che l'acqua. Ah. Più salto e più si abbassa l'acqua. Almeno. Da quello che ho capito. Faccio così. Si abbassa. Oh no. Adesso è più bassa. Io faccio così. Che è successo? Ho finito? Ah no. Sono tornato indietro? Che 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 sta succedendo? What? Non sei Iron Man. Quindi non posso volare. Eh però posso fare così. Non lo so. Era da tornare indietro quel livello lì. Ah ok. Ok. Quindi. In teoria questo qua dovrebbe essere più in alto. Ah no. Ok. Andiamo. Uno. Due. Non so come ho superato quello di prima. Però va bene. È geniale questa cosa signora. Geniale. Va bene. Madonna mia che brutto. Electric problem. Eh. No. Madonna che brutto. Ok. Dai 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 dai. Bravo. Ok. Ma no. Voglio uscire da qua. Andiamo. Baron. Nonna. 17. Potrebbe essere il tuo amico. Non credo. C'è un pulsante però lì. Quindi praticamente quello che devo fare io è attrarlo lì. Lui mi spara con la catapulta. E ho sbagliato. No. È da iniziare. Ho capito. Uno. Premi il pulsante sopra in alto a destra. No. Vai. Ok. Buttami su. Esatto. E via. Grande il 17. Hai il controllo. Credo che questo sia come quello di prima. Ah ok. Si scivola. Si 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 si. Sapevo io. Ora. Il problema è quello. Qua. Eh. Come faccio? Eh no. Madonna mia. C'è l'inferno là sotto. Come faccio a spostare quella cosa lì? No. No. Eh no. No. Come faccio a spostarla? Cioè sono arrivato qua. Però giustamente questo non lo posso spostare. Però c'è una cassa. Che non serve a niente. Non lo so. Come faccio a spostare quella lì? Così. Forza. Aspetta. Aspetta. Tipo suicidio di massa. No. Ah. Col mouse. Di nuovo. Non stavo morendo. Si era bugato. Ok. Poi l'ho fatto col mouse prima. Ci ho passato il mouse e non ho fatto niente. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Accettiamo. Accettiamo. 19. Ecco. L'oscurità. Dark damn praticamente. È il control. È il fattore di... Il salto. Intanto è un po' gnocco. Qua prendiamo lo space. E questo? Oh. Che figata. Pensavo... Potevo portarmelo da qualche parte. Invece... Eh. Lo devo usare per... Si. Ho capito però. Cioè. Ora... Sono un cretino. Cioè. All'infinito. Jump. No. Ma si può sospostare qualcosa? No. Ah. Si può spostare. Quello volevo fare. Vabbè. Però non me l'ha permesso prima. Non me l'ha permesso prima. Ecco. Volevo fare sta cosa io. Esatto. Poi non so perché... Prima era forte. Prima era alto. Non lo so. Però vabbè. Eh sì. Falle scomparire. Ah. Matita. No. Signori. No. Qui c'è del geniale. Qui c'è del geniale. Qui c'è del geniale. Ottimo. Signori. Qui c'è del geniale. E dopo questa. Chiudiamo il gameplay. Io spero che vi siate divertiti. Spero che abbiate capito di più da questo gioco. Qui sotto trovate il link in descrizione. Naturalmente è una preview. Non lascerò né un commento né un review su questo gioco. Ma aspetta a voi decidere se vi piace oppure no. Come sempre potete supportare il canale lasciando un like o un commento. E se vi va iscrivetevi. E come sempre siete medici. Alla prossima. Bye bye. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito.